Informare i cittadini in tempo reale su emergenze e disservizi. È questo l'obiettivo dell'amministrazione di Alcarali Fusi che si è dotata di un sistema efficace denominato Alert System. Si tratta di un servizio di informazione telefonica in grado di avvisare la popolazione in caso di dissesto idrogeologico, allerta meteo, incendi, terremoti e frane, ma anche per veicolare qualsiasi altra informazione in merito a modifiche alla viabilità, chiusura delle scuole o sospensione dei servizi, oppure per veicolare le iniziative del Comune. La prima telefonata registrata che il Comune invierà ai telefoni fissi e cellulari per testare il sistema avverrà nella giornata di domenica 30 agosto alle 13. Si tratta della cosiddetta chiamata Zero, in cui si informerà ai cittadini dell'avvio del nuovo servizio. Pertanto a tutti i telefoni fissi e numeri di cellulare che si sono accreditati per ricevere gli avvisi verrà inviata contemporaneamente una telefonata dal numero privato con un messaggio vocale registrato, trasmesso dal Comune, a nome del Sindaco. Al fine di dare la possibilità a chiunque lo desideri, almeno uno per famiglia, di essere contattato, chi vuole porfare istanza di accreditamento al Comune, fornendo il proprio numero telefonico o altri numeri di persone che ancora non sono state registrate, per essere contattati in futuro e ricevere messaggi. Si tratta di un servizio particolarmente strategico ed importante, soprattutto in caso di calamità naturali, purtroppo abbastanza frequenti in un territorio fragile come quello di Alcara-Lifusi, ma anche promuovere con una sorta di porta a porta le iniziative culturali e manifestazioni ritenute più rilevanti.